Siamo onoratissimi di incontrarvi, di conoscervi, di averli conosciuti nella nostra città. Ceglignola ha bisogno di conoscere il mondo e il mondo ha bisogno di conoscere Ceglignola. È un momento importante per la città, stiamo facendo tanto per il turismo, cerchiamo di portare le regolezze di Ceglignola in giro e attraverso gli istituti scolastici questo diventa un progetto ancora più possibile perché in questo caso è la cultura che porta il turismo, che porta Ceglignola al giro del mondo. Avete potuto vedere quello che Ceglignola ha, che è notissimo, al parco archeologico del piano delle fosse, che è un unico nel suo genere e conserva 600 e 36 fosse. È qualcosa che noi possiamo mandare, che dobbiamo motivare, che dobbiamo amare, che dobbiamo raccontare. E quello che questi progetti fanno sì che accade è proprio di raccontare la propria terra in giro, di raccontare a voi e fare in modo che voi possiate raccontare le emozioni che avete vissuto prima di noi. Quindi a noi è importantissimo postarvi, avervi prima di noi e permettervi di conoscere la nostra terra. Vi ringrazio.